ok c'è 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 ragazzi oggi vi vedo male attenti oh 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 ferma 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 tornate indietro indietro ancora le mani ecma ma colai non è così su adesso su vediamo via spunta chi chiede di più la moto oh oh sfina niente zucca zucca è sempre zucca la spunta lui e ora una discesa un pochettino più articolata attenti così 180 gradi in rampa anche per Matteo la mette giù benissimo oh le mani non le sento qua e non lo sentite non le sentite diventa di qualcosa ah che manesco anche ah no occhio che finisce ok perfetto se non sono bruci non li vogliamo lo fai dopo? dai attento attento retto retto per il canna retto per il canna bolla la sezione tutta la schiena la drizzati oh ricordi che stessi dobbiamo rientrare in clinica eh non è che attenzioni e ora un pochettino con calma è il primo eh è il primo dobbiamo rodare cioè abbiamo vinto la settimana attenziala vole vai grande controllo della moto ancora vole per Zucca per Matteo grande piedi sulla sena così attenti al canna canna lo sai che a me piace quando fai altro eh vai riparte di nuovo pronto Milchia più in alto attenti vole aerea così tac qui in alto ancora Zucca stacca così via Matteo su in alto anche lui benissimo attenti al canna vola anche lui su in alto eccolo là ecco l'hai fatto sì però magari iniziamo la settimana così tu non lo finisci la frettatina ci fai non senti però a me non hai più nessun senso tu neanche quello del zatto è il momento del pena attenti al pena è fatta amicizia adesso adesso trova tutte le macchine foto avanti i problemi vedete quelli pronti e la non c'è nessuno che va bene eeeh grande stop così con le gambe aperte riparte questa prima apparizione è veramente ufficiale completamente con la CFMoto il nostro sponsor grande vera e ora vediamo un po' come si accava su una ruota sola fuori dalla campetta questo bicilibrico 350 lo usa come se fosse un motorino guarda guarda si diverte con i bambini guarda fuori le gambe fuori fuori ho le mani le mani le mani non mi sento e guarda sarà la musica se non lo so però non sento gli applausi attenzione riparte fuori la gambetta così sicurezza finale andiamo sono a ruota grande sulle pedale posteriori moto appositamente modificata dal pera se ne costruisce casa la sera come andate eccolo qua giro completo in monoruota sulla sua CFM e ora vieni qua vieni qua l'esercizio perché il giro è un po' più largo è la più facile lo fermo qua attenzione attenzione al pera eccolo è qua è qua dobbiamo trovare l'equilibrio un attimo con calma vogliamo scaldare sempre qui la qui attorno a me qui attorno a me qui attorno a me vieni vieni qua oh con calma prima poi ce la facciamo prima poi ce la facciamo un pubblico serio eh con calma l'esercizio non mi chiamo un pubblico un pubblico un pubblico piccolino che più sensibilità più piccolino ma più L'hai scaldata? Ce l'hai fatta? E ora macchine foto pronte, attenti su in alto, è l'ora dei salti, arriva Zucca, Mirchia, e ancora Matteo dietro, su in alto, primo salto per scaldarsi un attimo, apriamo così, Resma 2005, Moto Live, ancora, su in alto, Zucca, fuori i piedi dalle pedane, fuori la gambetta, così per Mirchia, fuori tutto, Matteo, e le mani è qua, e ancora, sei pronto? A te che stanno ancora partendo, stanno ancora partendo, perché hai fatto le foto in ritardo, io non sballo a fianco, ricorda se c'è miscela, guarda, è tutto sforzo, Mirchia, come anche lui, è finita la tranquillità, ok, stavo dicendo che quando canta, prende il cuore, finisce la tranquillità, ma qui, hai pantaloni buoni, se non smettano, impegniamo, allora, signore, cambio il cuore, fantastico, eh, fantastico, che cos'era? Era un'invennata, sì, è arrivato, vedete, 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 no, guarda, non parte più, e poi ci serve un rianimatore, attenzione, allora, mentre il canna provo a far ripartire il quad, Eccolo. Il Vera lo va a sfidare. Attenzione, abbiamo un problema tecnico. Qua ci vanno i rialimatori. Aí... C'è 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 c'è, c'è 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 c'è! E questo me l'ho dimenticato. Allora, stavamo parlando di pennate. Improfessionista. Attenzione, allora, fai vedere come si penna. dai, è uno che impegni, porca, mi sedia, cioè, dove è andato il caso, dove è andato? vai qua, va bene, va bene, va bene, fammi vedere, ce la fa, non tocca a lui, ma non parte più qui, ah no, è partito, è partito, attenzione, eccolo qua, oh, eccolo che, il è partito, attenzione, eccolo, è partito, attenzione, eccolo, è partito, attenzione, 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 attenzione,